Eccoci qua ragazzi, perdonerete questo mio faccione ma dato che abbiamo delle notizie da commentare credo che sia anche giusto fare una sorta di discorso di ragionamento un po' più ampio di cercare di fare più video anche sulla questione perché comunque ci sono tante cose da dire non stiamo parlando di una notizia scontata, banale, facile, stiamo parlando comunque di qualcosa che andrà a coinvolgere l'umore del tifoso della Juventus nella prossima stagione senza ombra di dubbio e quindi perdonatemi la ripetizione, perdonatemi un nuovo video, tra l'altro questo video volevo farlo uscire domani mattina alle 7 perché poi io domani mattina sarò in viaggio verso Napoli, ve lo faccio uscire già adesso così cerchiamo anche di mettere quanti più contenuti possibili nella stessa giornata poi magari domani a Napoli ne parlo anche un po' insieme a Chino, Lello, cerchiamo di fare un contenuto tutti insieme in cui proviamo a guardare qualche prospettiva futura inerente alla Juventus voglio ringraziarvi perché comunque qualche minuto fa ho pubblicato su varie piattaforme TikTok, Instagram e Twitter un breve video di circa un minuto ed è andato a bomba lo state condividendo, retwittando, commentando, mettendo i like e soprattutto state dando ragione un po' a questa mia visione voglio anche cercare di raccontarvelo a uno spettro un po' più ampio anche all'interno di un video perché secondo me sono due i punti focali inerenti alla conferma di Allegri dall'inizio del percorso che ha portato Allegri a tornare sulla panchina di Juventus ad oggi in cosa è migliorata la Juventus? nel concreto, dentro il campo da calcio cioè qual è stato il miglioramento da Udinese Juve 2-2 a Udinese Juve 0-1 non prendendo in considerazione ovviamente solo gli estremi ma andando anche dentro e prendendo in considerazione proprio il percorso di crescita che c'è stato in due stagioni io non ne vedo, sinceramente, non riesco a trovare delle motivazioni che mi fanno dire nel concreto c'è stato qualcosa perché all'inizio della stagione in cui Allegri torna sulla panchina l'Inter prende Inzaghi, la Roma prende Murigno, il Napoli prende Spalletti la Fiorentina prende Italiano io in tutti questi allenatori ho visto delle migliorie, dei miglioramenti alla squadra l'italiano con la Fiorentina che arriva in Europa al primo anno e poi arriva a giocarsi due finali di secondo anno Murigno che arriva in finale di Conference e la vince, arriva in finale di Europa League e la perde però fa un percorso europeo con la Roma di livello Inzaghi vince delle coppe nazionali con l'Inter purtroppo sempre a danno della Juventus e arriva a fare una finale di Champions Napoli-Spalletti arriva in Champions il primo anno comunque una squadra che va a giocarsi anche lo scudetto durante la prima stagione e poi vince lo scudetto durante la seconda stagione io prendo la Juve di Allegri, non riesco a vedere dei percorsi di miglioramento proprio a livello di risultati ma nemmeno a livello di campo cioè non vedo delle migliorie né dentro il campo né a livello dei risultati perché comunque il primo anno usciamo agli ottavi di Champions e al secondo usciamo ai gironi perché comunque il primo anno facciamo due finali di Coppa e al secondo anno addirittura due semifinali di Coppa perché il primo anno non lottiamo per lo scudetto e il secondo anno neppure perché a livello tattico non ci sono state delle migliorie quindi io davvero da questo punto di vista fatico terribilmente a comprendere quale può essere la scelta della Juventus di confermare l'allenatore proprio sul punto di vista del merito e a questo rimando al primo video che ho pubblicato oggi ma la seconda domanda è ancora più profonda perché voglio che siate anche abbastanza sinceri su questo canale ragazzi potete pensare che sia giusto la conferma di Allegri sia sbagliata la conferma di Allegri a me sinceramente non interessa perché parliamo di opinioni, parliamo di considerazioni personali sono cose soggettive, non sono cose oggettive poi per me il campo è stato abbastanza oggettivo però la volontà di andare avanti con l'allenatore oppure cambiarlo sono e saranno sempre cose soggettive però voglio che siate sinceri se siete d'accordo con la conferma di Allegri siete contenti della permanenza di Allegri per me non c'è nessun tipo di problema però ditemi secondo voi se se Allegri sarebbe stato confermato la Juventus anche senza il primo ciclo cioè traduco l'influenza che ha raggiunto Allegri dopo il primo ciclo la Juventus secondo me è stato talmente importante da costringere tra virgolette la Juventus a blindarlo con questo contratto per farlo tornare in panchina cioè io quando sento parlare comunque di amore per la Juventus secondo me l'affetto di Allegri nei confronti della Juventus è elevatissimo è elevatissimo però l'amore ragazzi l'amore l'amore se lo dà o il tifoso o il giocatore che sceglie di unire in maniera indelebile la sua carriera alla squadra magari rifiutando anche delle occasioni di un certo tipo o come hanno fatto i ragazzi che sono scesi in B da campioni del mondo da palloni d'oro la vice campione del mondo con lo stato di sito internazionale nel pieno della carriera quelle sono cose che davvero mi fanno vedere l'amore per la Juventus anche in condizioni economiche di un certo tipo non metto in dubbio che Allegri sia legatissimo ai colori bianconeri questo no però ripeto secondo me senza il primo ciclo di Allegri questi ultimi due anni sarebbero stati improponibili per tutti i tifosi cioè Allegri arriva sulla panchina della Juve fa questi due anni qua arrivi alla fine del secondo gli dici grazie buongiorno buonasera avanti un altro non rimani così legato al nome di Allegri la figura di Allegri l'influenza di Allegri la storia di Allegri questo ovviamente è la mia umile opinione umilissima opinione voglio sapere anche un po' la vostra secondo me questi sono due punti i focali sui quali iniziare anche una discussione di un certo livello che vada anche al di là dell'Allegri in Allegri out perché ragazzi sinceramente la nostra roba hanno anche un po' stancato secondo me è giusto iniziare a parlare di calcio in un certo modo apprezzando accettando anche l'opinione degli altri e senza ricorrere semplicemente a slogan voglio però riportare alcune frasi che ho letto nelle ultime ore da parte dei tifosi della Juventus che secondo me sono giustamente delusi sono giustamente delusi come la Juve è morta non la seguo più non vado più allo stadio non compro più una maglia non faccio più gli abbonamenti alle pay tv e bla 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 ok io credo che sia condivisibile in questo momento un pensiero inerente al mi prendo anche altri impegni piuttosto che mettere in primo piano magari la Juve perché dalla Juve mi aspetto altro non è la mia lettura per due motivazioni la prima è legata ovviamente al mio lavoro questo lavoro andrà avanti con Allegri in panchina sarebbe andato avanti con il cambio in panchina sarebbe andato avanti in ogni caso questo lavoro continuerà ad andare avanti qua ci saranno comunque le analisi delle partite le pagelle i commenti al calciomercato i commenti le conferenze stampa questa cosa ragazzi non finisce con la conferma di Allegri non sarebbe finita con le zone di Allegri continuerà perché mi piace mi diverte è del mio lavoro e la seconda battuta perché comunque ho un'altra opinione da tifoso semplicemente anche se non avessi il canale YouTube continuerei a guardare la Juve nonostante tutto questa è la mia presa di posizione però attenzione io capisco quello che dicono alcuni tifosi cioè perché devo pagare l'abbonamento all'Allianz farmi magari anche dei chilometri rinunciare a degli impegni per andare a vedere qualcosa che non mi intrattiene più o andare a vedere una squadra che non mi regala più quelle emozioni che attenzione è un concetto diverso dal non ci vado più perché non si vince cioè questa secondo me è una cosa condannabile è una cosa anche antisportiva perché nello sport non c'è scritto che vinci nello sport puoi vincere perdere l'importante è dare sempre tutto a te stesso per arrivare lì e quando poi si perde secondo me anche riconoscere i meriti degli avversari e accettare il fatto che si è sbagliato in primis senza voler trovare tanti alibi o giustificazioni come purtroppo in questi due anni ho sentito fare più di una volta dall'allenatore perché secondo me se si fanno certe affermazioni quando si vince e sono legittime e sacrosante a maggior ragione dopo un buon ciclo quando poi si perde non bisogna fare l'errore di fare esattamente l'opposto rispetto a quello che si era detto prima cioè predicare bene e razionare male non lo so non sono cose che mi piacciono ma ovviamente questa è la mia posizione dal punto di vista umano che va al di là di quello sportivo ovviamente però io comprendo io comprendo un tifoso che magari decide di risparmiare quei 30-40 euro sulla pay tv comprendo un tifoso che magari che ne so deve litigare con la fidanzata la moglie la compagna o una tifosa che deve litigare col fidanzato il marito il compagno perché quella sera lì c'è quella partita lì magari una partita anche brutta che non è una delle top eppure c'è l'impegno e devi fare i salti mortali o devo andare allo stadio quindi devo prenotare l'hotel devo prenotare l'aereo il treno l'autobus ma chi me lo fa fare sacrificare fare dei sacrifici perché quei 50 euro magari che dosca e da zon alla fine mi fanno queste cose qua cioè io credo che siano sacrosante come la juventus sceglie in maniera sacrosanta poi per me è la scelta sbagliata di confermare allegri ma il tifoso dall'altra parte ha assolutamente la possibilità e la libertà di essere ancora così attratto essere più attratto essere meno attratto da quello che la juventus poi andrà ad offrire al tifoso io credo che sia sacrosanto poi io sulla maglia faccio sempre un po' fatica nel senso che io sono un collezionista e poi l'amore nei confronti della juventus per me non si conclude oggi nonostante sia molto deluso dalla decisione che ha preso la juventus per me la maglia della juve è sempre una roba diversa e quindi per fortuna quest'anno mi è stata donata la prima però le altre due le andrò ad acquistare appena usciranno perché semplicemente sono fatto così però ripeto io io comprendo il tifoso che oggi mi dice sai cosa se prima facevi salti mortali se prima facevi sacrifici e se dall'altra parte non ho quello che secondo me dovrebbe essere un ricambio di fiducia uno a uno e qua viene fuori un po' il mio animo informatico beh allora forse posso anche un po' alleggerire la pressione o semplicemente fare un passo avanti io queste cose le capisco le comprendo ripeto non è il mio caso perché motivi lavorativi motivi personali la juventus l'ho sempre seguita da quando ho iniziato a tifarla quindi dal 2006 2007 e continuerò a farlo e probabilmente continuerò sempre a farlo anche se un giorno magari arriveremo a non caricare più video su questo canale immagino il più là possibile nel tempo anzi spero il più in là possibile nel tempo però l'amore verso questi colori c'è ci sarà sempre c'è ancora e non è l'allenatore che che mi fa pendere da una parte o dall'altra sicuramente se devo dirvi che sono emozionato oppure eccitato al nuovo anno no vi dico di no anzi vi dico anche che che non mi attendo nemmeno un calcio mercato di chissà quale livello mi attendo delle eccessioni di un certo tipo delle eccessioni importanti anche dolorose proprio dal punto di vista affettivo nei confronti dei calciatori e non mi aspetto dall'altra parte chissà quali nomi in ingresso anche perché comunque che prospettive dai oggi a un calciatore che vuole venire alla Juventus o che prospettive dai a un giocatore che potrebbe lasciare la Juventus per farlo rimanere secondo me poco se non niente diventa molto complicato secondo me anche fare mercato quindi un grosso in bocca al lupo a manna che per il momento si prende i pieni poteri dal punto di vista gestionale delle trattative in attesa di Giuntoli vedremo se arriverà oppure no perché comunque le parole di Scanavino di oggi lasciano aperto un piccolo spiraglio che non chiude definitivamente la porta appunto a Giuntoli anche se ufficializza manna al 100% come direttore sportivo per il momento e dall'altra parte anche un grosso in bocca al lupo ad Allegri perché secondo me quest'anno avrà ben più di un problema cioè qua ripeto da un po' di tempo che non si è più a quella anche sgradevole forse puzzolente perché è rimasto lì per troppo tempo concetto del giocare bene giocare male vincere non vincere cioè adesso in campo non c'è niente e i risultati non arrivano la tifosieria della Juventus io non l'ho mai vista avvilita e arrabbiata come oggi per una decisione della Juventus perché è stata una decisione della Juventus confermare Allegri e ho visto che si è persa veramente tanta fiducia tanta fiducia nei confronti della società nei confronti dell'allenatore nei confronti di quella che potrebbe essere la programmazione e questo porta il tifoso deluso ad avere un diverso tasso di conversione nei confronti dell'abbonamento dello stadio della maglia del merchandising e di tutte queste cose qui quindi io ripeto io non mi fermerò io non mi interromperò so che qualcuno sarà arrabbiato per queste mie parole perché dirà sì ma voi dovete dar l'esempio io do l'esempio ragazzi di quello che credo che sia giusto non sono qui a dire che chi decide di smettere di seguire fa male no se tu te la senti così io alzo le mani non credo di essere così importante da poter insegnare come ti fare vi racconto la mia posizione vi racconto le mie opinioni è finita lì tante persone in questo ora mi hanno detto che dovrei chiudere il canale perché io avevo detto che Allegri se ne sarebbe andato però ragazzi se non siamo nemmeno in grado di comprendere quando uno dice la mia opinione la mia sensazione secondo me se ne va e se queste persone capiscono che ho dato la notizia che Allegri se ne andrà è un po' un problema perché qua chi mi segue da tempo lo sa mai sono arrivato con la presunzione di dirvi è così andrà così sarà così vi dico che è così perché mi hanno detto che è così no no questo l'ho sempre lasciato alle persone che lo fanno di lavoro sempre lasciato a chiedere ricostruzioni perché ha dei contatti ha delle chiacchierate mi spiace se qualcuno l'ha prese come notizia ma penso di essere stato anche sempre abbastanza chiaro lucido e corretto nei vostri confronti quindi ragazzi questa è un po' la ricostruzione il tifoso Viventino Idruso sì sì lo è alla grandissima secondo me corragione perché oggi vedo davvero complicato riuscire a ritrasmettere entusiasmo a un ambiente dopo due anni di questo tipo e dopo sei mesi come quelli che abbiamo passato secondo me era giusto sacrosanto accettare ed ascoltare anche l'opinione del tifoso della Juventus che aveva necessità di ripartire con quella voglia diversa che forse ci avevano anche un po' tolto per le ragioni extracampo poteva essere presa la palla al balzo per cercare di ricominciare un progetto di un certo tipo invece si continua con quello di due anni fa ripeto secondo me nemmeno per ragioni legate alla fiducia quanto più economiche apro e chiudo una parentesi nel finale non è che la Juventus non avesse il fondo necessario per esonerare Allegri perché Exor ragazzi se vuole Allegri lo esonera dieci volte semplicemente non l'ha voluto fare non venitemi a dire che la Juventus non l'ha fatto perché non poteva perché questa è una cavolata gigantesca e lo sappiamo tutti basta guardare anche solo il recente passato di Exor nei confronti di Juventus volere una cosa potere un'altra di Juventus di Juventus